Pasqua e vedere cose nuove Gesù entra dove è già chiuso Ecco il Vangelo che non ti aspetti Ho sempre ammirato la sincerità di Tommaso Accoraggio, esce, entra e parla Ma Gesù fa di più Il risorto crede in chi non crede Si fida della mia poca fede Apre ciò che è chiuso Oggi è ancora Pasqua Vivi e condividi pace e misericordia Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia Cristo che è portato nel grembo, alleluia È risorto come aveva promesso, alleluia Prega il Signore per noi, alleluia Rallegrati Vergine Maria, alleluia Il Signore è veramente risorto, alleluia Alleluia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti